ciao amici e amiche benvenuti in un nuovo video questo è il secondo video del decluttering del mio armadio in un video vi ho declatterato il mio armadio invernale oggi andiamo a declatterare quello estivo alle mie spalle pronti allora ecco l'armadio estivo piccolissima precisazione se non vi ho fatto vedere maglioni invernali è perché io in realtà ne ho veramente tipo due di numero pochissimissimi e quelli che ho cerco di non darli via di non eliminarli altrimenti poi devo devo necessariamente ricomprarli quelli che ho mi bastano e mi avanzano se poi vorrò comprare qualcosa per l'inverno vorrà dire come faccio di solito che una cosa entra ma una cosa deve uscire quindi per i maglioni adesso mi prendo un po di tempo li lascio la boni zitti e poi ci ripensiamo verso ottobre novembre inoltrato iniziamo subito questa gonna la tengo assolutamente vabbè la metto così sulla stampella che non so se voi lo fate ma non so se c'è molto senso tenerla così piuttosto che quella con le clip comunque io mi trovo bene così quindi la tengo così questa sono secoli che ce l'ho staconna veramente secoli non si è rovinata niente proprio l'ho messa stramessa rimessa con le ciabattine sotto con i classici sandali estivi va sempre bene è super comoda quindi la tengo c'è pure un po di strascichetto qui bello la fantasia è questa mi piace tanto veramente tantissimo poi c'è questo vestitino l'ho presi date zenis si date zenis allora ragazzi è carino non è che io lo abbia usato più di tanto è carino va bene ero semplice ok non è che io lo abbia usato più di tanto in realtà però vorrei tenerlo magari per andare al mare però di solito quando si fanno questi ragionamenti in realtà si dovrebbe dare via quindi che cedevo fa lo do via non lo do via scrivetemelo sotto nei commenti perché veramente questo è un gran dilemma questo è uno dei miei vestiti preferiti no vabbè guardate che meraviglia una volta ci ho fatto un video non so va bene non so se me lo ricordo di mettervelo poi alla fine nei video suggeriti ma ci sono andata ad una festa in spiaggia in più vabbè me lo so messo in altre occasioni comunque super bello anche questo è comodo anche se la scollatura insomma vabbè non è proprio comoda la scollatura ci devi sempre mettere qualcosa sotto un top perché comunque parecchio non è che c'è si è scollato però è anche diciamo piuttosto lento quindi devi sta sempre aggiustate vabbè comunque vale la pena passare tutta la sera da aggiustarti la scollatura perché è veramente stupendo quest'altro è uno dei miei preferiti non è un dilemma questo l'ho preso no vabbè questo ragazzi è stupendo pure questo ne ho fatto un video me sa dove non so se era questo la festa in spiaggia o quell'altro non mi ricordo comunque questo non so se lo vedete ah sì ecco si vede è tutto così oro bellissimo e ha questa particolarità che ha delle taschine eccole qua quindi rimane anche sbarazzino sportivo e questo lo indosso mai con i tacchi ma sempre con un sandalo gioiello quindi anche su questo non ci sono dubbi lo amo lo adoro e lo tengo lo comprai in un negozio quando stavamo in vacanza con mirco in calabria mi presi questo e un altro vestito e quindi vabbè insomma bell'acquisto mi ricordo un momento molto felice mi sta ancora molto bene comodo lo tengo e poi c'è questo che ho usato super tanto in realtà ragazzi potrei anche darlo via cioè fino adesso io praticamente non ho dato via niente questo vestito c'è tanti anni però lo metto sempre e tanto volentieri quest'anno devo dirvi che non l'ho messo tanto l'avrò messo forse un paio di volte però mi piace sempre assai quindi lo tengo dovete sapere che io anche d'inverno metto questi vestiti qua magari sopra ci metto un bolerino o un giacchettino però comunque ragazzi metto anche questi vestiti ecco perché mi sentite dire che l'ho messo quest'anno perché effettivamente io pure d'inverno mi metto questi vestitini qua questo ragazzi è uno dei miei preferiti l'ho messo pochissime volte si contano sulle dita di una mano praticamente un bel tessuto però ahimè devo darlo via quindi il primo vestito della collezione estiva lo diamo via mi dispiace tanto perché è molto carino però non ci sono neanche particolarmente legata quindi ciao poi c'ho questo che mi piace tantissimo lo metto e l'ho messo spessissimo mi piace super tanto e lo metto d'inverno più che d'estate e questo è un altro capo di quelli che io uso anche d'inverno perché ci metto una bella calza maglia sotto lo stivale e un bel giacchetto sopra eccola qua no vabbè molto carino quindi lo tengo ci sono pure affezionata mi sta ancora bene quindi lasciamolo là allora ragazzi ve lo dico questo vestito preso da H&M qualche annetto fa fatto così no vabbè non è male è carino questo gli piace tanto a Mirko a me sinceramente no quindi noi chiotti chiotti adesso lo diamo via poi c'è questo che è uno dei miei preferiti estivi questo è stupendo mi piace tantissimo l'ho usato tantissimissimissimissimo questo è veramente stupendo guardate tutto brilluccicoso se ne trovo altri quest'estate sempre di questa forma di un colore diverso magari me li devo prendere perché sono super super comodi super leggeri l'ho messo tanto e ne vorrei tipo altri due poi c'erano dei colori bellissimi viola, grigio, nero vabbè forse nero o no per l'estate però veramente anche nero era bellissimo poi c'erano tutti questi colori sfiziosi a me piaceva questo quindi mi sono presa questo invece del solito nero e l'ho adorato poi abbiamo questo vabbè un vestito di Primark molto tranquillo molto così fresco allora questo mi ricorda un momento speciale prima di portare a casa Pablo la sua allevatrice mi ha proposto di prendermelo per una notte e una mezza giornata successiva dovevamo andare a trovarlo e lei insomma quando siamo arrivati a casa ci ha fatto questa proposta ovviamente abbiamo subito accettato e ce lo siamo portato a casa anche insomma per farci rendere conto di come sarebbe stata la vita con lui e io portavo proprio questo vestito mi ricordo perfettamente che siccome è molto leggero svolazza di qua e di là lui cercava di aggrapparsi al mio vestito era buffissimo tenerissimo dolcissimo però anche se questo mi ricorda un momento bello ha fatto la sua storia è molto comodo lo ringrazio diamo un bacino e via allora questi pantaloni di Tezenis che voi vedete così insomma sono molto freschi molto diciamo così estivi leggerissimi super morbidi però non mi piace come mi stanno perché nonostante siano belli larghi sono corti io essendo comunque bassina e formosa cicciottella mi intozzano ancora di più la figura dovevano essere un pochino più lunghi semplicemente per slanciarmi un po' non perché mi ci volessi mettere il tacco sotto ma quantomeno per comunque mettere un sandalo ma rimanere comunque una figura per darmi comunque una figura un po' più slanciata sono troppo corti ragazzi e li do via non li ho messi mai proprio per questo problema e sinceramente non mi sento di di tenerli questa la do via perché sono secoli che non la metto questa ragazzi la do via sta maglia così questo decluttering dell'armadio estivo ha dato pochi risultati avrei voluto dar via molta più roba però posso essere orgogliosa di me perché comunque qualcosa la do via me ne sono separata ma senza dolore più che altro il decluttering mi fa rendere conto di quante cose io abbia sì è vero come un po' tutti noi siamo sempre alla ricerca di abiti nuovi vestiti nuovi scarpe nuove nuovi pantaloni però poi alla fine il decluttering aiuta un po' a rendersi conto di quello che poi realmente abbiamo nel nostro armadio che è già tantissimo vorrei diventare minimalista ragazzi non so se ci riuscirò mai ci sto provando con tutta me stessa sia con i vestiti che con gli oggetti in generale di casa spero un giorno di arrivare veramente a declatterare tutto e ad avere due cose in croce e a farmele andare bene dopo questo decluttering che ha dato i suoi piccoli risultati voglio chiedervi se anche voi amate declatterare il vostro armadio fatemelo sapere sotto nei commenti mi raccomando fatemi sapere anche quante volte all'anno fate appunto il butta butta generale io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine spero di avervi tenuto compagnia anche oggi se il video vi è piaciuto lascia un like iscriviti al canale e seguimi su tutti i miei social mi trovi su instagram e su tiktok come lea e pablo io vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al canale Sous-titrage ST' 501